La politica calabrese non so... Sì, è una giornata importante perché la politica calabrese, anche quella attuale, deve avere rispetto di chi piantò le radici. E Carmelo Puglia credo sia stato uno dei dirigenti politici migliori che la Calabria abbia mai avuto, perché ha sempre saputo coniugare i bisogni del territorio con una visione di sviluppo della regione. E quindi sono particolarmente contento di partecipare a questo incontro oggi. La battaglia è molto più complicata, anche per il Porto di Gioia, perché a volte alcune decisioni dell'Europa sono un po' stupide. Io credo aver dimostrato in questi due anni di governare avendo grande rispetto per l'ambiente, ma si può avere rispetto per l'ambiente anche con misure che siano però economicamente sostenibili. Allora questa direttiva dell'Unione Europea, sull'altare di un ambientalismo ideologico, sacrifica le possibilità di sviluppo di molti porti europei, a cominciare dal Porto di Gioia Tauro. Ho chiesto al Ministro Picchetto Frattine di mettere in discussione questo punto alla riunione dei Ministri dell'Ambiente dell'Europa, che ci sarà il 16, quindi fra qualche giorno. Spero che il Consiglio riesca a stabilire una deroga per il Porto di Gioia Tauro. Sono dispiaciuto del fatto che chi avrebbe dovuto occuparsi di questa vicenda nei mesi e negli anni passati, mi riferisco ai parlamentari europei, alla Commissione, abbiano espresso un voto, probabilmente senza nemmeno leggere le carte. è triste, ma vediamo di verificare se c'è la possibilità di risolvere questo problema anche ora che la direttiva è chiusa, quindi non è facile risolvere, è molto complicato. Io ce la sto mettendo tutta, ma io purtroppo non siedo a quei tavoli. Potrebbe succedere, quello che sto chiedendo al Governo, di chiedere di ottenere dall'Europa una deroga in fase di attuazione per il Porto di Gioia Tauro, magari creando una collaborazione con Malta, il Porto di Malta è un altro come quello di Gioia Tauro, che pagherebbe moltissimo dall'effetto di questa ulteriore tassa, e di spiegare alla comunità europea che comunque non si sa facoltare nemmeno l'ambiente, perché le navi passerebbero in ogni caso, inquinerebbero in ogni caso, ma le merci sarebbero scaricate invece che in Europa, nei porti del Nord Africa. Beh sì, credo che un paese, una regione, una comunità che non coltivi la memoria si basa su radici molto instabili e labili, per cui è giusto coltivare la memoria delle personalità che sono state per lunghi anni espressione di questa regione al vertice dello Stato, e certamente Pui è stato uno di quelli, lo è stato con forza, con grande radicamento territoriale, con convinzione ideale. Penso che il mondo certamente è cambiato rispetto a quello di cui stiamo discutendo, a quegli anni, però bisogna accettare le sfide nel nostro tempo. Diceva Moro una cosa molto bella, se potessimo passare oltre, ma è qui che si tratta di vivere, questo momento che si tratta di vivere, naturalmente con le sfide che si comporta. Oggi il rapporto con l'Europa è importante e sarà fondamentale che le autorità regionali lo trattino nella giusta dimensione. Tanto che se ne parla, diciamo che dai tempi di Pui è che se ne parla. Non vorrei che tra 30 anni la domanda venga fatta a chi verrà a memorare bene, insomma. Certamente è un'opera che ha degli elementi molto importanti, però voglio dire una cosa, soprattutto in realtà come la Calabria e la Sicilia è importante fare il ponte, ma è oggi molto più importante avere una rete regionale, stradale, ferroviaria all'altezza del ponte, perché se no rischiamo di fare un'opera importante, ci mancherebbe altro, se ne parla da tanto, però che non ha poi le infrastrutture regionali che lo sostengono. Beh, se non ci sono le compensazioni necessarie, la fosserà, questo senza dubbio. Ci sono naturalmente una serie di problematiche, che era facile anche prevedere, si sono manifestate, ma lo si è capito fin dall'inizio che ci sarebbero state. Per cui io mi auguro che su questo tema ci sia la possibilità tra chi governa e chi sta all'opposizione di avere un confronto costruttivo, perché questi fondi sono indispensabili per la comunità nazionale, per cui non è importante rimpallarsi eventuali colpe e responsabilità, ma lavorare assieme.